La rassegna stampa è offerta da Mercoledì 21 gennaio, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere insieme le principali notizie dei quotidiani locali e nazionali di oggi. Iniziamo con il quotidiano nazionale romano il messaggero, Italicum, nuovo patto anti-ribelli. Il vertice Renzi-Berlusconi blinda la legge elettorale ma è resa dei conti con le minoranze. Scontro nel PD passa alla linea del Premier, no, di 29 senatori, fronda, difitto e caos in Forza Italia. Intervista ad Alfano, un presidente che viene dal PPE, nessun diktat ma nemmeno Veti. Taglio centrale, cronaca, arrestata la donna, 21 feriti, l'ordigno con una bombola del gas, Roma, la vendetta di un'anziana, fa saltare un palazzo, un morto. Sulla destra, banche popolari, via la rivoluzione, spa entro 18 mesi. Sì al decreto del governo, le dieci più grandi dovranno cambiare pelle e bufera politica. La gazzetta del Mezzogiorno, Galatone, picchiò un dipendente che chiedeva gli arretrati a giudizio imprenditore, accusato di sequestro di persona e lesioni. Ambiente, Puglia, più tutela per la legge alle coste, ai trabucchi, nuove misure della regione per le cave di smesse, le ex fabbriche, sanzioni e vincoli. La gazzetta di Lecce, l'emergenza, Xilella, l'Europa conferma il divieto di piantare ulivi, i produttori, a rischio l'economia. Taglio centrale, Galatone, legò e picchiò un dipendente, imprenditore sotto processo. Sulla destra, politica, regionali 2015 e battaglia nel centro-destra. Taglio basso, lega pro, Shevanton accetta la proposta del Benevento. Ho dato l'assenso, avrei voluto chiudere la carriera a Lecce, ma non è stato possibile. Nuovo quotidiano di Puglia, i proiettili, a giornale satirico, minaccia avvantaggiato, direttore della carrozza ed ex consigliere comunale. Occhiello, una busta con 30 pallotole, con un libretto della Santa Messa indirizzata al semestrale. Taglio centrale, beccati a Lecce, 135 su 334. Tassa soggiorno incassata, ma non versata al Comune. Multati i furbetti dei Bed and Breakfast. Al centro, sulla sinistra, operazione della finanza, scoperta la fabbrica delle polizze assicurative false. 64, i denunciati taglio basso, stacano visti assenteisti in consiglio, la partecipazione dei consiglieri di Lecce in coda, Ripa, Capone e Borgia. Pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia. Sorprese ecotassa, salasso per 50 comuni, tariffa massima per metà degli enti, lira dei sindaci. Il turismo dei furbi, tassa di soggiorno, un Bed and Breakfast su due non versa, gli incassi al Comune. Lecce, multe da 150 euro ai proprietari, dati 2014, minori introiti per 132 mila euro. Comune, assenteisti e stacano visti, primati dei consiglieri, maglia nera a Ripa, per le assenze 8 su 19, in coda, Mazzotta, Capone e Borgia, forzisti più presenti. I nodi del Comune, Mercato del Tarocco, Perrone, Striglia, Perrotta, lettera del Sindaco al Prefetto, fallite le misure pianificate contro gli abusivi, ancora bloccate le assunzioni dei vigili. Terminiamo infine con lo sport, Lecce, il tuo futuro dipende dal mercato, Brio e Fagiano analizzano il momento difficile della squadra giallorossa che ha perso di vista la vetta. Termina qui anche oggi la nostra rassegna stampa, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi diamo appuntamento come sempre con TG News 24, a tra poco. La rassegna stampa è stata offerta da...